ciao a tutti e bentornati allora anche oggi mettetevi comodi perché perché ho un bel po di cose da raccontarvi e quindi io direi non perdiamo tempo e partiamo subito dal ritorno inaspettato di tatuatissima e dove su youtube è venuto ieri mattina con una live in cui ha annunciato la riapertura del suo canale youtube nonché un cambio di palinsesto la novità del suo canale sarà che non intende commentare ciò che succede negli altri canali ma si limiterà a raccontare della sua attività di influencer e produttrice beh io di questo posso raccontarvi ben poco perché perché la seguivo su ig mi limitavo al solo guardarle le stories e sono stata bloccata ora data la prolungata assenza di tatuatissima da youtube immagino che soprattutto i nuovi utenti facciano fatica a comprendere chi è stata tatuatissima bene allora la tattoo faceva parte integrante della setta capitanata ai tempi da regina e marco poi a seguito di scontri interni al loro gruppo la tattoo ha deciso di continuare il suo percorso su youtube in solitaria è stata protagonista di diversi dissing dove non ha disdegnato il fare minacce anche abbastanza pesanti tipo sciogliere nell'acido eccetera 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 e poi ancora con beatrix batti becco partito da facebook e sbarcato poi infelicemente su youtube e infine quello più recente con barbara labbidi dove prima si era mostrata propensa a realizzare dei mini video socialmente utili e poi non si sa perché si è ritratta suscitando così il dissenso di barbara che si vide costretta ad aprire live su live dove raccontò dritto e rovescio dell'intera faccenda ovviamente questa vuole essere solo una leggera infarinatura di quella che è stata tatuatissima personaggio perché a raccontare tutto praticamente non bastavano 15 riassuntoni e lo scopo oggi era solo di aggiornare l'utenza sul fatto che è tatuatissima e tornata bene e adesso passiamo ad un altro personaggio andiamo a parlare di fate alla quale innanzitutto dico un sentito grazie per il fatto che si affida a quelli che sono i miei riassunti e ne fa menzione pubblicamente e sentire elogiare la genuinità del proprio lavoro fa sempre piacere bene e adesso passiamo a quella che è stata la sua live quella di ieri dal titolo rispondo a da maniera e faccia ipoku che parte col sottolineare quanto sia disagiata la sorianese che con un procedimento legale in corso al quale sistematicamente non si presenta continua a reiterare lo stesso reato dando di pantofolo a destra e a minchia poi fate fa un breve riassunto su come è iniziato questo botta e risposta con la medium più chiacchierata di soriano city delle accuse ricevute a gratis e così via per passare poi con estrema delicatezza a descrivere culogero allora qui massima attenzione un omuncolo che si gingilla su telegram e con cosa con le foto delle donnine a seno nudo e non disdegna neanche gli incontri con la disperata di turno roba che la stessa dama l'ha beccato più volte e quindi sa bene chi avvicino un uomo di cui vantarsi ben poco madonna che schifo una bella coppia composta da lei che entra ed esce di galera e il compagno che che fa le cose porcellose restando nel discorso facci poco ops culogero di cui la dama ne vanta tanto le doti ma poi lei per prima non gli fa mai finire un discorso perché deve salutare gli utenti deve rispondere ai commenti deve controllare che non ci siano dei troll che le dicano che assomiglia un uomo nel frattempo sottolinea in chat la dama bianca che non è da reputare neanche come coppia di fatto dato che lui non ha mai divorziato da sua moglie sebbene poi conviva con la dama da oltre 15 anni e sono stati tantissimi gli utenti che si sono chiesti come mai quest'uomo sebbene conviva con con la dama da oltre 15 anni non vada poi a richiedere il divorzio a sua moglie per finalizzare questa sua attuale unione che poi a sentir lei questi stanno un giorno sì e l'altro pure o in caserma dai carabinieri o dagli avvocati dice vabbè ma lì è un discorso diverso lì ci vanno per fare le denunce a tutta youtube e ci avete ragione e poi fate affronta il discorso chiamata in caserma per la dama e racconta che marco stufo di sentirsi nominare continuamente ha deciso di sollecitare la caserma sorianese affinché richiamassero la loro compaesana e le spiegassero che con un procedimento legale in corso bisogna osservare il silenzio almeno fino a sentenza avvenuta e lei ha detto sì sì ho capito però non appena è tornata a casa la prima cosa che ha fatto è stato aprire due mini live per raccontare il tutto e a modo suo minacciando e distorcendo le cose si è inventata che marco ha fatto il chienimento con l'appuntato sorianese che ha ammesso di aspettarsi una sentenza negativa con tanto di marchio a vita per pantofoleria quando poi sappiamo bene tutti che la denuncia marco non l'ha ricevuta ma l'ha sporta e contro chi contro di lei per averlo calunniato pubblicamente tacciandolo di di pantofolo cioè sta donna è proprio scollegata dalla realtà ad oggi la tizia non ha ancora capito che per la denuncia ricevuta deve essere lei a dimostrare di non aver calunniato pubblicamente marco e non il contrario anche perché marco per poter procedere con la denuncia ha allegato le prove su chiavetta a dimostrazione che il fatto è avvenuto e sebbene lei ancora ad oggi neghi ci sono le prove audio su youtube che la inchiodano però lei una sorta di difesa la azzarda in che modo dicendo di di avere una foto di di marco col clarinetto di fuori e qui fate fa una sorta di inventario perché dice ricapitolando allora lei sul telefono ha la foto del clarinetto di piero la foto del clarinetto di marco e chissà quanti altri ancora e poi non contenta parte anche con l'ennesima minaccia e cioè che se fate non sta zitta lei praticamente mostrerà a tutti la foto di marco con la ciolla di fuori ora l'udienza è fissata per il 2 di luglio e queste belle minacce che fa non fanno altro che aggravare la sua già traballante posizione verso la fine della live fate fa un divertente racconto pare che all'ultima udienza alla quale la dama non si è presentata in tribunale c'era pure fate ed hanno avvisato che la sciolla sarebbe stata assente fate fa per mostrare il canale youtube della dama e lei era lì in live con la sua pausa caffè di 7 ore il tutto sotto lo sguardo attonito del giudice cancelliere e presenti tutti quindi il mio consiglio per voi è segnatevi questa data e cioè il 2 di luglio perché perché un processo a porte aperte e ne vedremo delle belle e concludiamo questo riassuntone di oggi parlando di baraglia che giusto ieri sera si è prodotto in un video dove chiarisce la sua posizione su youtube per la quale si sente di non dover dare spiegazioni se frequenta questo o quell'altro canale o se decide di entrare in qualche hangout per dare quella che è la sua opinione un qualcosa che proprio baraglia non sopporta è il fatto che quando non possono attaccare lui direttamente attaccano chi gli sta vicino e andiamo subito al punto e cioè a quello che è successo allora lui era in hangout da ali e alcuni utenti che lui identifica come utenti di cassandra hanno preso a fargli delle domande domande a cui lui candidamente ha risposto poi il braia rispolverà l'avviso di cassandra nei confronti di sandro per il quale se sandro avesse lasciato nominare barra offendere qualche suo familiare lei l'avrebbe ripagato con la stessa moneta e in che modo rivolgendo le stesse offese barra minacce a sua moglie ora proposta ortodossa o meno fatto sta che sandro ha smesso di dare in pasto i familiari di cassandra alla alla sua chat e ai suoi ospiti in hangout ora invece ci sono in ballo delle informazioni in merito al marito di ali la quale per evitarne la diffusione pare abbia rimosso un post dalla sua community allora il braia a volte fa dei bei ragionamenti ma poi pare che abbia un limite cioè quello che quando è amico con qualcuno lo difende a spada tratta anche se poi a tutti gli effetti questo qualcuno ha torto marcio quando poi secondo me il compito di un vero amico è quello di aiutarti a vedere i tuoi errori e possibilmente aiutarti a correggerli bene detto questo mi sembra che si sia fatta una certa quindi a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata invitarvi a seguire quello che sarà il mio prossimo riassuntone ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossip